Una pista ciclopedonale collegherà Rosà a Cartigliano permettendo di spostarsi in tutta sicurezza non solo tra i due comuni, ma lungo la direttrice est-ovest della bicipolitana del Bassanese, che collega Rossano Veneto a 9 e Marostica, che prende il nome di Ala Bardata. L'arteria ciclabile correrà lungo la provinciale 58 dalla rotatoria di Ponte Paoletti, in zona artigianale di Rosà, sino al confine con Cartigliano, passando per la nuova rotatoria di Borgo Oppio all'incrocio delle quattro strade, per una lunghezza complessiva di 1,4 km. La pista, che costerà 335.000 euro finanziati per il 50% da contributo richiesto alla provincia, sarà a doppio senso di marcia, illuminata da nuovi punti luce pubblici a servizio anche della stessa strada provinciale.